Lei è stato escluso dalle liste per le europee e comunque ha deciso di andare avanti e di appoggiare i candidati e i capi lista. Io sono qui oggi a parlare al mio popolo, alle persone che mi vogliono bene, che in queste ore hanno manifestato anche sconcerto. Io sono un dirigente del PD, sono un uomo del PD, ho fatto una battaglia in queste ore per affermare un'idea del PD e in parte le ragioni della mia esclusione nascono dalla battaglia politica che si è fatta e che alla fine è prevalso il solito atteggiamento un poco ponsiopilatesco secondo il quale si esclude in nome dell'unità i soggetti del contendere. Io non ho mai fatto una battaglia per ambizioni personali, io faccio il deputato in Sicilia, continuerò a fare il deputato, però voglio affermare attraverso anche le elezioni europee il profilo di un PD che non può essere un partito ascensore dove c'è chi sale, c'è chi scende, c'è chi lo prende come una giostra dove si fa un giro e scende alla fine del giro. Insomma, un partito adesso è una cosa seria, deve essere una classe dirigente che ha un'idea e una visione comune della Sicilia. Abbiamo bisogno di cambiare molto in Sicilia a partire anche dall'asse che fino ad oggi c'è stato nel governo di questa regione. Si aspetta che eventualmente dalla direzione nazionale ci possa essere una marcia indietro e quindi lei possa essere ripescata? Assolutamente, guardi, non mi interessa neanche, devo dirle sinceramente, non è che stiamo giocando. Un PD lacerato dalle divisioni interne, ma i giovani militanti che cosa pensano di questo? Innanzitutto, pensiamo e penso soprattutto che in questo momento di crisi profonda che vive la Sicilia il PD non si può permettere di essere lacerato e diviso e soprattutto non si può permettere di, diciamo, astenersi dalla volontà della base, cioè dire, noi consideriamo che Cracolici insieme alle altri candidati è stato nominato dalla direzione regionale del partito quasi come un plebiscito, quindi 100 voti su 104 e poi in direzione nazionale ci troviamo un cambiamento di queste liste addirittura rivoltate un'altra volta dopo che si è trovato un accordo regionale sul candidato anche socialista che è poi stato tolto e stato inserito negli scilabri. Quindi da qui bisogna capire cosa vuole fare questo partito, vuole prendere indirizzo alla base o vuole prendere indirizzo da qualche notabile nazionale che sceglie per conto del PD regionale? Noi appoggeremo i candidati che ci indicherà la nostra area, cioè quella di Antonello Cracolici è sicuramente il segretario regionale che si è distinto e si è comportato benissimo in questo periodo in breve periodo in cui è stato nominato è sicuramente la Chinnici perché è sicuramente un simbolo per il PD in Sicilia in questo momento rappresenta la discontinuità con quello che significa antimafia in Sicilia Lumia, a che mi risulta, non ha mai avanzato una richiesta di candidatura europea reale cioè si ventilava la possibilità della candidatura di Lumia ma alla direzione regionale nessuno ha mai messo in discussione che Lumia fosse candidato o meno perché nessuno ha messo il suo nome in lista quindi di conseguenza per me Lumia non è candidato perché non è mai stato presentato poi a prescindere dal fatto che lo Statuto Nazionale prevede che un candidato dopo i due mandati, come dice Renzi come dice l'area Rottamazione Siciliana dopo i due mandati nazionali, parliamo di mandati nazionali non regionali non è più candidabile la persona per il ricambio generazionale quindi di conseguenza non è una scelta che veniva da una decisione che poteva essere indicata dall'area di Antonello Cracolici o dal segretario regionale ma è una scelta da parte dello Statuto del Partito Democratico noi parliamo tanto di ricambio di relazioni di nuove generazioni di democratici e poi però ci troviamo un candidato che ha 25 anni che fa il senatore in Parlamento per altri 5 anni al Parlamento Europeo tra l'altro Cracolici si è sempre conquistata con le elezioni, voto per voto mentre Lumia è stato sempre nominato al nazionale un PD lacerato dalle divisioni interne, un governo che ancora non parte polemiche, liti, tutti contro tutti, intanto la Sicilia che fa? La Sicilia affonda, questo è il vero problema e noi dobbiamo uscire da questa situazione di impasse e di crisi riportando al centro le parole d'ordine che sono occupazione che sono dare lavoro ai giovani, che sono anche rispettare le esigenze dei più deboli e mi pare che in questa fase in Sicilia non si stia lavorando in questa direzione Allora l'appello che io faccio a Crocetta innanzitutto perché credo che abbia gran parte delle responsabilità di quanto stia avvenendo ma anche alla situazione nazionale che ha trasmesso alla Sicilia un senso di abbandono Ecco io l'appello che faccio è quello di occuparsi realmente dei problemi siciliani dando ai siciliani la parola per decidere in questa fase difficilissima e non mi pare che le decisioni assunte invece dalla politica siano nella direzione di risolvere i problemi del lavoro, dell'occupazione e dei più deboli Grazie a tutti